Eccovi qua, porto il caffè a Peppe di Napoli, così partiamo alla grande. Lo sa, è il caffè Borbone. E per forza, qui è solo caffè Borbone, così al volo. E dopo un bel caffè adesso mi puoi dire quello che cuciniamo oggi. Cosa facciamo? Una bella cosa fresca. Fresca, stiva. Che facciamo? Facciamo nocciole, finucchi, nocciole sempre intere, cocomero, pomodorina, basilica e cappafrnì. Ammazza, bello il tonno, buono, fresco. Sai che facciamo adesso? Eh, questo è abbattuto, è ovvio. È abbattuto. Mettiamo un po' d'olio, lo mettiamo sopra, così guarda. Ovviamente, olio extravergine d'oliva. Extravergine, lo passiamo dentro la nocciola, facciamo, la mamma fa nautat. Ah, quindi è come se facessimo proprio... E naggirato, guarda, nautat. E naggirato. E naggirato, facciamo. Ok. Un maserice a Napoli. Facciamolo vedere qua. Dentro la nocciola, vedi, è uno, è una due, facciamo due o tre volte lo giro, guarda com'è una bella, Rosa, ma il tempo... Tu, questo lo scottiamo soltanto, quindi velocemente. Poco proprio, un po' ti faccio vedere quello che facciamo, la faccio con sulla... Ok, e com'è che hai pensato all'anguria? L'anguria è fresca, col tonno, pomodorina e nocciola, ti faccio vedere che ti faccio fare, una novità. Una novità. A te le novità piacciono, giusto? Sempre, lo sai. Facciamo, intanto, il tempo che la pentola si fa calda... Ok, quindi diventa veramente soltanto una scottata, anche perché il tonno è buono quando, insomma, è rosa, no? Guarda il cam, è bello. È bellissimo, effettivamente, dopo... Tu se vedi il tonno e vedi il colore del tuo vestito, è uguale, guarda. Due tonni, praticamente, uguale. Ok, facciamo scottare un pochettino. Il sole perché dietro di me sta venendo il diluvio, ma a noi non ci importa. Lo so, ci vuoi, ci vuoi, ogni tanto ci vuoi. Ci rinfresca, diciamo. E ci rinfresca una poca, va. E ci rinfresca, vabbè, vabbè. Guarda qua. Il sole ce l'abbiamo dentro. Certo, guarda qua. Ok, perfetto. Lo facciamo fare pochi minuti. Intanto togliamo questo e questo. Ci puliamo un po' le mani. Da come sono brava, tolgo tutto da mezzo. In modo... A posto. Ok. Che facciamo? Che facciamo? Perché dopo facciamo un gingin. Facciamo con queste. Facciamo, mettiamo un po' di cocomero. Guarda. Con calma, tanto ci abbiamo tutto il tempo. Due o tre pezzettini, quando ne preferisci? Ma guarda, due o tre pezzettini. Bene. Facciamo un po' di pomodoro rosso, uno giallo. Eh, va lui, ma buonissimo. Facciamo due o tre nocciole. Guarda, uno. E due. Rai a prendere pure bene quel cosiddetto. E io prima facevo... Come sia? Togli la cera, metti la cera. Metti la cera, perfetto. Ok, vediamo il tonno a che sta. Vedete, solo una scottatina poco. Ecco, il tonno va mangiato crudo, eh. Raga, però viene abbattuto. È chiaro. E anche questo è importante quando andiamo a comprarlo. Eh, ma ci siamo dimenticati una cosa essenziale. Il? Finocchio. Ok. Poi ci mettiamo. Anche questo è una bella verdura fresca. Un po' di sale. Vedi come lo guarniamo con un po' di sale? Non troppo, no? Non troppo, no? Pochissimo. Vedi, guarda qua. Gli diamo solo calore, guarda. È veramente bello. Gli diamo solo un po' di calore, un avanti e indietro. Un po' di pepe ce lo mettiamo, Rosa ti piace il pepe? E ci vuole un pochino, non troppo perché poi mi va a coprire. E guarda che facciamo, uno e una due. Poco, poco, poco. Benissimo. Che facciamo? Io lo tolgo. Vedi? Sì. Che a ti piace metà crudo e metà cotto. Questo qua lo lasciamo un altro pochettino perché l'abbiamo messo in secondo momento. Intanto, io abbia tagliato una. Che dici? Eh, infatti, io guardavo qua. Io lo vorrei uguale della stessa grandezza dell'anguria. Allora, facciamo così, guarda, è uno. Guarda come lo facciamo, guarda, guarda quanto è bello, Rosa. Mamma mia, che colore intenso che ha. Tre. Ma qua a scatola non ci abbiamo messo niente. Niente. Ci mettiamo pochi basilici, che ho fatto a cascata. Intanto che faccio. Intanto per gradire. Questo qua lo tolgo. Non lo voglio far fare tanto. Ok. Guarda, a me è bello, Rosa, va. Ma veramente bello. Intanto spegniamo. Senti, ma come fai tu quando vai a comprare il pesce? Come fai? Insomma, quando vai là, dici, che mi dai? No, che mi dai. Io lo guardo negli occhi, nelle branche. A chi? Al pesce, non al pescatore? No, al pescatore non guarda proprio. Piace guarda il pesce. Guarda il pescatore. Io guardo solo a mia moglie, lo so. Eh, lo so, lo so. Salutiamola, dai, salutiamola. Saluto a mia moglie. Un bacio a cascata. Hai visto che mi ha fatto a cascata? L'hai visto come ci andava? Perfetto. Lo so, da Gimisina, pochi tonniciù. Tu dici perché? Perché a te piace il tonno. Molto, lo sai. Amo il tonno. Un po' di tonno. Mettiamo un po' d'olio. Ok. Benissimo. Intanto, dietro di noi, l'uragano Peppe. L'uragano Peppe. Guarda qua, Rosa, va. Lo devi assaggiare. Il sale l'abbiamo già messo. Il sale l'abbiamo messo. Vai, fagli vedere come mangiamo in diretta. Allora. Intanto me lo faccio pure io. Io a questo punto ho il tempo, approfitto e me lo assaggio. Tanto mi fido di te. Assaggialo con un po' di tonno. Assaggia prima il tonno e il pemmelone rosso. Ok. Vedi com'è buono. Perché devo vedere se pizzica Peppe. Ovvio, sì, Rosa. Vedi bene. Vedi. Quando il tonno pizzica è perché non è abbattuto, Rosy. Quindi è pure pericoloso. Bravo, è pericolosissimo. Vedete, tonno. Mi prendo un po' di cocomero. Guardate, ma è bello. Il cocomero sembra tonno. Guardate qua. Infatti pensavo di prendere il tonno e ho preso il cocomero. È rosa. È manata nocciolina, la posso mettere? Assolutamente sì. Ok. Peppe è fantastico questa cosa. Ma questo è una sorta di antipasto che fai anche da te? La verità? Sì. L'ho fatto solo per sapere oggi. Me lo sono inventato oggi. Una cosa bella, fresca. Questa è simpatica. Come in treno, antipasto. Questo è ottimo da mangiare. Ora lo assaggio io prima con me. Però che faccio? Faccio tonno e cocomero. Posso metterlo in bocca? Tonno e cocomero. Ma quale è ottimo e quale è cocomero? Ora vi faccio sapere. Allora, facilissimo come piatto. Semplice. Che spettacolo, mamma mia. Veloce. Basta avere gli ingredienti giusti. Guarda in bocca. Si scioglie tutto. È fantastico. Se è il cocomero che è il tonno, hai visto? E non pizzica. Veramente grande, Peppe. E pizzica dei donchi. Veramente fantastico. E allora, facilissimo. Basta avere un po' di cocomero, finocchio, nocciola IGP di Giffoni e ovviamente del tonno, ma quello buono. Mamma mia. Per oggi diciamo che è tutto. Non mi continuo a mangiare. Peppe, dobbiamo salutare. Scusa, ma tu hai detto adesso tu, io, tu mangi e tu parli. Tu parli. Ma no, basta. Ok, allora. Adesso dobbiamo salutare appuntamento a domani. Appuntamento a domani. Un bacio a cascata a tutti quanti. Con la grande Rosaria Sica. Un bacio. A domani. Questa trasmissione è stata presentata da Terra Orti. Il meglio dell'ortofrutta italiana.